buonasera a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale. Oggi, in questo periodo di tempo che è trascorso dall'ultima nostra punto di riflessione, sono apparsi una serie di articoli sui giornali che se noi li buttiamo lì dicono poco o niente, se invece noi li raccruppiamo e li analizziamo sotto una voce aumento dello sfruttamento, li possiamo ben delineare e vedere. In questa fase di crisi della società capitalistica dove esiste una sovra capacità produttiva di prodotti, non tanto per chi ne ha bisogno, ma questa sovra capacità produttiva viene data da chi non ha possibilità di comprare. Questa pretoria di prodotti che vengono creati all'interno dei posti di lavoro o meno non trovano un mercato di sbocco, dal fatto sta che gli stessi borghesi dicono, quindi i difensori di questo sistema sociale che si basa su questo assioma, sull'assioma del profitto, dicono che la carenza è di domanda, quindi non di offerta. Ma il sistema di produzione capitalistico è basato sulla concorrenza, cioè di tutti contro tutti, dove vince sul mercato chi produce a un centesimo in meno dell'altro e si accaparra la fetta di mercato e fa sì che il proprio concorrente possa essere così mandato in falimento, quindi esca del modo di produzione per accapararsi questa fetta di mercato. Questo lo sappiamo dall'esperienza quotidiana, però proprio chi analizzò il sistema, il funzionamento di questo sistema che è Carmo Max ne deduce alcune cose, ne dà delle caratteristiche fondamentali e l'aumento dell'intensità dello sfruttamento avviene attraverso il plus valore assoluto e il plus valore relativo. Il plus valore assoluto è l'aumento della giornata lavorativa, però oltre a un certo limite la giornata lavorativa non si può aumentare perché fisicamente poi le persone non sono più capaci di resistere, perché devono mangiare, devono dormire e hanno questi bisogni naturali da soddisfare e l'altro è il plus valore relativo. Cos'è il plus valore relativo? Il plus valore relativo è attraverso l'intensità del lavoro, di quanto il lavoro riesco a far di più in determinato tempo. È una rimedicazione poi fra l'altro che troviamo tutti i rinnovi contrattuali del lavoro dove le organizzazioni sindacali in cambio di denaro chiedono sempre aumento di produttività. Ebbene questo cosa comporta da una parte? Comporta che il salario o lo stipendio come si vuole dire, comunque il prezzo della forza lavoro da una parte rimane costante o diminuisce pochissimo in proporzione alla quantità di lavoro che viene data, cioè i pezzi che vengono poi alla fine portati sul mercato aumentano sempre di più. Fatti sta di fatto che qui abbiamo letto un articolo sul giornale dove quel lavoratore extra comunitario che andava a mettere di notte, rimpinguare i scaffali di un supermercato prendeva 5 Euro all'ora e quei 5 Euro faceva un po' il calcolo dei prezzi, delle merci che lui metteva sugli scaffali, in 10 minuti si era già pagato. Il valore della sua forza lavoro era bassissima, ma come è bassissima ormai dappertutto. Allora, quello che ha fatto più scandalo, oggi ricordiamoci che siamo in campagna elettorale per cui dei politici di quello che dicono ne dobbiamo prendere con le pinze quello che dicono, perché oggi si scandalizzano un po' per tutto, è quindi l'aumento, torniamo al nostro tema, l'intensificazione dello sfruttamento attraverso questo plus valore relativo, cioè intensificazione, la produttività, l'aumento della produttività, che ricordiamoci lo chiedono sempre le organizzazioni sindacali, l'aumento della produttività a livello nazionale, a livello aziendale c'è sempre aumento, dobbiamo produrre in minor tempo sempre più pezzi anche se le organizzazioni sindacali dicono che non è questa la produttività, vabbè, chissà loro cosa intendono per produttività, la produttività viene data soltanto da un fattore, da prodotti fratto tempo, loro non lo so, loro sono bravi a chiacchierare nelle trattative, però alla fine li vedo poco nella catena di montaggio, ebbene, cos'è che ha dato scandalo? Il braccialetto, il braccialetto ai dipendenti di Amazon, allora Amazon è la più grande catena di distribuzione di e-commerce mondiale, ha dei stabilimenti anche in Italia, fra poco ne aprirà uno anche a Torino, e cosa succede? Leggendo sul Corea della Sera del Venerdì 2 febbraio, l'opinionista, il commento di un certo Dario Di Vico, dice che è questo braccialetto, questo modo di lavorare sempre veloci, senza rispettare i tempi umani, dice che i lavoratori sono addetti a una mozione costante e ripetitiva, è molto veloce, cioè ristretta nel tempo, e dice che quindi la possibilità di sbaglio dell'inserire la merce in uno scatolone al posto dell'altra, è molto elevata, e quindi cosa si pensa di mettere? Un braccialetto sulla mano dove aiuta il lavoratore a identificare in maniera molto più veloce, dove su quel scaffale si trova il prodotto che devi scatolare, per cui la possibilità di errore diminuisce. Ecco anche qua, non è che i ritmi si devono abbassare, no, i ritmi si devono anche innalzare e siccome non siamo ancora dei robot per nostra fortuna come esseri umani, allora creiamo queste protesi che fanno in modo tale che il lavoratore possa sbagliare meno, non che sbagliare sia naturale o il lavoro va diminuito come intensità, no, si trovano questi pagliativi, questi escomataggi in modo tale che il lavoratore lavori sempre di più e produca sempre di più, ma dobbiamo anche dire che il fatto del controllo a distanza è stato introdotto dal Job Act, dove il controllo a distanza attraverso video, attraverso strumenti elettronici è permesso e il Job Act ha fatto cacao, scusatemi il termine, della legge 300, il cosiddetto Statuto dei Lavoratori. Poi parte Calenda, il Ministro del Lavoro che dice no, qui in Italia non succederebbe mai, ma sono tutte parole che sono messe in bocca ai politici, perché loro hanno tutto l'interesse a essere rieletti e non perché ci credono, altrimenti avrebbero messo dei paletti prima su questa legge e Calenda e il governo prima di Renzi e quello attuale avevano con forza voluto la Job Act e quindi con forza potevano mettere i paletti, ma lasciatemelo dire, questi di lavoro ne sanno pochissimo tranne Calenda, che sa benissimo come far quadrare i bilanci aziendali, cioè facendo il modo di sfruttare di più i lavoratori, ma gli altri penso che del lavoro proprio fisico ne sappiano molto poco, sta di fatto che, ne abbiamo parlato anche l'ultima trasmissione, il risparmio quindi per aumentare il plus valore relativo, oltre all'intensità del lavoro, cioè si lavora sempre più forte, si va anche a diminuire, si va a risparmiare sul capitale morto, cosiddetto, no? Cioè quel capitale costante che serve per esempio in questo caso che vi acceno adesso è quella sulla infortuni sul lavoro, abbiamo accenato anche l'altra volta che tre persone al giorno muoiono di lavoro e ho qui i dati che sono apparsi poi il 26 gennaio, io ne avevo accenciato prima con le morti che erano avvenute, quelle tre morti che erano avvenute lì vicino a Milano, all'interno della cisterna di quelle tre persone, ebbene in Veneto, per portare visto che questa trasmissione viene così trasmessa nel Veneto, in Veneto sono aumentati i casi di morte quest'anno sono da 15 del 2016, sono a 17 nel 2017 e sono stimati questi perché ancora per il 2017 non sappiamo ancora i dati ufficiali dall'Inps che ce li dà a metà del 2018, quindi abbiamo 17 casi, cioè più 2 del 2016, mentre gli infortuni sono circa, ho perso la riga, scusate, sono denunce, allora nel 2016 sono le denunce nel 2017 di infortuni sono 12.208, mentre nel 2016 era 12.400, cioè una leggera diminuzione, però i dati sono grandissimi e il risparmio sul capitale morto e quindi la possibilità di guadagnare di più risparmiando sulle manutenzioni l'abbiamo visto ultimamente con il deragliamento del treno vicino a Milano, dove sul manifesto del 26 gennaio, cioè il giorno dopo dell'accaduto, c'è un'intervista a Dario Ballotta, osservatorio Trasporti dove dice mancata manutenzione, i soldi ci sono ma vengono gestiti male, sappiamo purtroppo che qui la storia si ripete, dove ci sono soldi c'è corruzione, finché tutta la ricchezza non viene posta sul valore di scambio e non sul valore d'uso delle merci, queste cose succederanno, più c'è la crisi e succederanno maggiormente. Altro motivo di risparmio da parte delle imprese per aumentare il plus valore dell'attivo è quella del sommerso, in un articolo del Corriere della Sera del primo febbraio di quest'anno dice cresce il sommerso in nero 3 milioni di lavoratori all'analisi del Censis, aumento del 6% tra il 2012 e 2015 in nodo delle false imprese. Ed è interessante sentire cosa dice Maurizio Gardini, il presidente della Conf Cooperative, che dice è il lavoro ad ogni costo definito così dal Censis nel forum negato, irregolare, sommerso. Il lato oscuro del lavoro realizzato con la Conf Cooperative che evidenzia come il lavoro oscuro negli anni 2012 e 2015 sia cresciuto dal 6% mentre l'occupazione regolare cala. Il numero del sommerso è arrivato a 3,3 milioni delle false imprese, più altri 100 mila delle false cooperative, persone senza diritti né garanzie sfruttate e sottopagate. E questa è la ricerca del Censis Conf Cooperative, ha conteggiato il salario medio orario degli irregolari e 8,1 Euro, circa metà di un dipendente in regola, cioè 16 Euro. L'evasione tra tasse e contributi negli anni fra il 2012 e il 2014 è così arrivato a 107,7 miliardi di Euro. Il settore più colpito, al di là di quello domestico, qui c'è da sottolineare che il sommerso soprattutto è dato dalle badanti, dove le famiglie in difficoltà preferiscono pagare le badanti in questo modo, ma negli altri settori irregolari sono soprattutto nell'agricoltura, in nero il 23,4%, cioè un più 1,5, qui sottolinea Gardini, si tratta di sfruttamento che nasce solo per moltiplicare i profitti e mettere fuori gioco le tantissime imprese che competono correttamente sul mercato, irregolare anche il 22,7% dei lavoratori del mondo dell'arte e della cultura, sfiora il 18% dei lavoratori sommersi, il settore dei servizi, dialoggi e ristorazione, cioè in pratica i camerieri, così come aumentano i non regolari nelle costruzioni e queste sapevamo che nelle costruzioni e nell'edilizia è una quasi normalità, al su delle percentuali più alte, quasi il 10% di irregolari in Calabria, scusate l'8,8% in Campania, seguita dalla Sicilia l'8,1% e Puglia il 7,6% e anche questo il risparmio per quanto riguarda sui salari fa aumentare i profitti e quindi la possibilità dell'impresa di essere concorrenziale nei confronti delle altre imprese. Ultimo quindi non solo il salario così irregolare, ma anche il salario regolare non aumenta, qui c'è il Corriere della Sera del 31 gennaio di quest'anno, dice prezzi e busta paga, salari rincorsa lenta, retribuzioni del 2017 cresciute la metà dell'inflazione, dice salgono i salari ma anche i prezzi del doppio e così l'aumento dello 0,6% della retribuzione oraria media nel 2017 sembra ancora più ridotto rispetto all'inflazione che invece nello stesso anno ha segnato una crescita dell'1,2%, esattamente il doppio lo ha calcolato l'Istat. Quindi sono tutte cose, se noi li mettiamo assieme vediamo il quadro, anche se chi fa come è sottoscritto, ma tanti altri fanno i conti sulla propria busta paga e quando vanno a comprare qualcosa di questo non serve, ma siccome tutti ci vengono a dire che i dati sono quelli che sono e sembra che siamo noi gli ultimi diventati spendacioni e non riusciamo più a far quadrare il bilancio familiare. Ma per ultimo io volevo segnalarvi un'altra notizia che è apparsa nei quotidiani il 24 gennaio che parla del doping salariale all'origine della povertà globale e crescita. Questo è il rapporto dell'organizzazione Oxfam, che è una confederazione internazionale di organizzazioni non profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo. Ne fanno parte circa 18 organizzazioni di paesi diversi che collaborano con quasi 3000 partner locali in oltre 90 nazioni per individuare soluzioni durature alla povertà e alla giustizia. Allora quali sono questi dati che lei ci porta? Alcuni dati sulla disuguaglianza, questo è il rapporto del 22 gennaio del 2018, dice il 50%, parliamo dell'Italia, più povero degli italiani, possiede l'8,0% della ricchezza nazionale netta. Quindi l'82% dell'incremento della ricchezza globale registrato l'anno scorso è finito nelle casseforti dell'1% più ricca della popolazione, mentre la metà più povera del mondo, 3,7 miliardi di persone, ha avuto lo 0%. In Italia a metà del 2017 il 20% più ricco degli italiani deteneva oltre il 66% della ricchezza nazionale netta, cioè il 22% della popolazione italiana detiene più della metà, cioè esattamente il 66% della ricchezza nazionale. Diceva che nel periodo 2006-2016, quindi nell'arco di un decennio, il reddito nazionale disponibile lordo del 10% più povero degli italiani è diminuito. del 23,1%, quindi il reddito disponibile lordo del 10% più povero è diminuito, quindi i poveri sono diminuiti ancora di più. Infatti ci sono i manager che prendono sempre più soldi e a scapito dei lavoratori salariati, dei propri collaboratori, che loro, questi manager, l'esempio è Marchionne con l'operaio in catena di montaggio, non so quante migliaia di volte prende di più Marchionne come salario, che poi fanno parte del suo, ma non si può creare salario, il denaro che lui prende è una montagna nei confronti dell'ultimo lavoratore in catena di montaggio. Si potrà anche dire che lui ha più responsabilità, sì, ma però alla fine se io voglio guidare la macchina ho bisogno del lavoratore che sia in catena di montaggio. Ecco, questa società quindi portata all'esasperazione, alla concorrenza come adesso perché c'è la crisi di sovraccapacità produttiva, fa sì che sempre minor persone lavorino, sempre più in modo così esasperato, si risparmia sul capitale morto, quindi abbiamo i disastri ferroviari, ma non solo, ne capiteranno anche altri, aumentano gli incidenti sul lavoro e una marea di persone che non lavorano, mentre in una società diversa, in una società dove il bisogno della specie umana venga suddivisa, la fatica per soddisfare i bisogni, venga suddivisa su tutta la popolazione e quindi si va a ridurre enormemente l'orario di lavoro, dove il conteggio non viene più fatto sul valore di scambio, ma viene fatto sul valore d'uso, cioè sulle quantità e quindi non c'è pericolo di produrre di più di quanto serve all'umanità, coordinati come siamo oggi attraverso una rete di informazioni che ci dà costantemente quanto viene consumato e quanto la produzione può rimpinguare quello che viene consumato, ecco questa è una società diversa dove tutti lavorano, dove tutti contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo che è quello di vivere in armonia con la specie e con l'ambiente che è fondamentale, la nostra ricchezza, l'ambiente. Ecco facciamo un punto di riflessione su questo, se questa società è così umana o disumana come dico io e se non c'è il bisogno di muoversi per cercare di cambiarla. Vi lascio con questo punto di riflessione e ci vediamo fra 15 giorni. Ciao a tutti! Grazie a tutti!